se che venti hai vai Luca se che venti hai Ehi, non mi piace, non mi piace. Ma come no? Che non si viene? A me? Mi piace, non mi piace. Mi piace, non mi piace. Non mi piace. Madame con capo. Non lo sembra, non. Nascendo ci pari. È unILLAM finalement. Buongiorno mi piace. Ma io non so int administrator. E' un Megatini che aiuti per fare bec divinare la sua parte. Queally è il generale. Sì, è un legate... Grazie a tutti. Grazie a tutti.